Stai pensando di fare la follia e dotarti di una Canon EOS R5? Molto bene, oggi siamo qui per andare a scoprire quali sono le migliori impostazioni a livello di fotografia per questa fotocamera. Prima di cominciare, io vi ricordo che questo è un canale che si occupa di fotografia, videomaking e design, per cui se questi argomenti vi interessano, io vi consiglio di iscrivervi al canale attivando anche la campanella, così non vi perdete i prossimi aggiornamenti. Lasciate anche un like a questo video, così aiutate il canale a crescere, mi aiutate con l'algoritmo di YouTube, e andiamo a incominciare. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare e oggi vi parlo delle modalità fotografiche che abbiamo a disposizione su Canon EOS R5, una fotocamera meravigliosa che ho la possibilità di avere in mano per un periodo di tempo limitatissimo. Molto bene, eccoci qui. Cose da sapere sul menu di Canon EOS R5. Nel momento in cui andiamo a premere il pulsante menu, come potete vedere, ci ritroviamo in questo tipo di ambiente. Ora, la prima cosa che vogliamo fare, ovviamente, è decidere quale tipo di qualità utilizziamo sulla nostra fotocamera. Quindi nello specifico io vi consiglio di impostarla in questo modo, ovvero RAW e niente JPEG. Ovviamente si può anche impostare RAW più JPEG, ma è una modalità abbastanza strana da utilizzare, quindi io ve la sconsiglio, vi consiglio di utilizzare solamente in RAW. Abbiamo anche la possibilità di scattare in C-ROW, come potete vedere, che è un formato diverso. Io vi sconsiglio di usarlo perché credo che vada a comprimere lievemente la nostra immagine e questa non è una cosa desiderabile. Seconda voce abbiamo il Dual Pixel RAW. Ora, questa è una cosa che io di solito tengo disattivata perché è una cosa abbastanza particolare che solitamente non uso. Questo ovviamente dipende da che cosa state facendo. Ritaglio rapporto dimensioni. Questo è interessante perché qui abbiamo la possibilità innanzitutto di croppare a 1.6, quindi sostanzialmente la stiamo trasformando in una PSC. È interessante che ci sia la possibilità di farlo. Abbiamo la possibilità di scattare con un rapporto di 1 a 1, quindi se scattiamo per Instagram possiamo già scattare il formato definitivo. Possiamo scattare anche in 4 terzi, possiamo scattare anche in 16 noni. Ora, secondo me la cosa migliore è sempre scattare in full, perché se scattiamo full abbiamo la possibilità di ritagliare in post e quindi è sempre meglio avere la quantità maggiore di informazioni possibile, quindi di avere l'intero frame piuttosto che ritagliarne solo una porzione, ma questo è un parere mio. Ora, passiamo alla seconda schermata. Qui abbiamo tutta una serie di cose che io di solito non uso, però abbiamo anche per esempio la sensibilità ISO. Ora, qui di default siamo impostati su 600 e abbiamo una gamma che va da 100 a 51.200, quindi credo che sia la gamma completa. Andiamo a vedere se... Ok, no, è espandibile fino a 102.400. Lasciamola così che va più che bene. Per quanto riguarda la gamma auto, qui abbiamo la possibilità di dirgli in modalità automatica fin dove può arrivare. Ora, io la modalità automatica di solito non la uso, però in questo caso credo che la imposterò già al massimo perché non si sa mai. Velocità minima, otturatore, questa credo serva nel caso vogliamo evitare che le nostre foto vengano mosse, quindi se vogliamo mantenere una velocità minima utilizziamo quella funzione. Impostazioni HDR PQ non le spieghiamo adesso perché è troppo complicato. Ottimizzazione della luce io lo lascerei off, priorità tonalità chiare pure off. Scatto anti-flicker, io questo lo lascio disattivato perché altrimenti mi influisce sui tempi di ripresa. Controllo speed light esterno, adesso non lo vediamo perché non c'è collegato nessuno speed light. Bilanciamento del bianco in questo momento è solo automatico, personalizzato non lo usiamo. Spazio colore, io qui preferisco impostare sempre di default Adobe RGB, anche se poi tanto scatto in RAW. Stile foto standard, sì qui possiamo lasciarlo assolutamente come ci pare, tanto se andiamo poi a scattare in RAW ci sarà uno sviluppo. Chiarezza lo lasciamo così, questo qui è assolutamente da non toccare secondo me perché se lo andiamo a toccare adesso poi se andiamo a lavorare su dei JPEG li abbiamo già rovinati e su dei RAW è inutile. Correzioni, aberrazione, obiettivo, qui io di solito queste cose le disattivo perché preferisco gestirle personalmente. Anche qui gestione, obiettivo, io preferisco disattivarlo in maniera tale da avere la possibilità di essere più elastico in post-produzione. Correzione, aberrazione cromatica, correzione, diffrazione. Queste potrei lasciarle on anche per testarle perché sono convinto che funzionino bene. Sono cose che di solito io disabilito per avere la possibilità di gestirmele dopo, ma in questo caso le lasceremo così. Passiamo alla prossima voce. Riduci disturbo lunghe esposizioni è una cosa di cui vi ho già parlato in un video in cui parlavo di lunghe esposizioni, in questo caso lo lasciamo off. Riduzione disturbo, alta sensibilità ISO. Io vi direi che questa modalità l'ho sempre tenuta off perché non mi piace tanto quando è la camera che va già a elaborare le immagini, preferisco farlo io. Però siccome questa opzione è incredibilmente migliorata, vi dico che la metterò su bassa. Quindi ne avremo un minimo, ma non tanto. Dati, eliminazione, polvere. Questo non lo tocchiamo. E siamo pronti a passare al prossimo menu. Allora, esposizione multipla, in questo caso disattiva. Questa è la modalità per catturare in bracketing, una modalità che a me piace moltissimo, ma in questo caso non la utilizzeremo. Modalità HDR, ovviamente off. Bracketing fuoco. Qui e se vogliamo lavorare in focus stacking, qui è automatizzato, quindi non dobbiamo più nemmeno andare a spostare noi il punto di messa a fuoco. Possiamo personalizzare il nostro scatto in base alla nostra scena e questo è molto molto figo. Ok, andiamo sul menu 6 del nostro menu foto e qui abbiamo una cosa molto interessante perché è quella che interessa prevalentemente a me, ovvero abbiamo intervallo timer e abbiamo le modalità otturatore e il rilascio otturatore senza scheda. Ora, rilascio otturatore senza scheda io lo disattivo perché non mi piace mai che scatti anche senza la scheda. Preferisco che mi avvisi se ho dimenticato di mettere la scheda. Intervallo. Qui, come potete vedere, andiamo ad attivarlo. E nel momento in cui l'abbiamo attivato possiamo andare sulle impostazioni, possiamo decidere per esempio ogni quanti secondi realizzare uno scatto e possiamo decidere il numero di scatti che andiamo a realizzare. Vediamo un po' se c'è... Ok, possiamo farne 99, abbiamo un massimo di 99 scatti oppure illimitato, il che significa che dovremo fermare noi stessi la camera quando abbiamo finito. È una modalità interessante ed è quella che utilizzerò prevalentemente con questo corpo macchina perché l'abbiamo noleggiato appunto per questo. Procediamo alla prossima schermata. Modalità stabilizzazione AIS. In questo caso c'è la stabilizzazione direttamente sul sensore. Io in questo caso la disattivo perché utilizzerò questa camera solamente su treppiede. Scatto a tocco disattiva. Io questo personalmente non lo voglio. Cioè che se tocco scatti automaticamente come un telefonino. Non la voglio questa cosa. Visione e immagine sul display. Due secondi di RAM direi che va bene. Simulazione e esposizione. Questo è interessante perché nel momento in cui io lo attivo posso avere la simulazione dell'esposizione già direttamente sul display. Mostra info scatto. Qui abbiamo la possibilità di personalizzare quello che vediamo sul display. Non è tanto un'impostazione fotografica quanto più un'impostazione generale della macchina. Prossimo menu. Formato visualizzazione mirino e prestazioni visualizzazione. Qui abbiamo la possibilità di selezionare diverse impostazioni per quanto riguarda il nostro visore. E qui abbiamo la possibilità di impostare fluido oppure risparmio batteria. Ovviamente fluido si vedrà meglio e risparmio batteria andrà invece a consumare di meno. Quindi anche qui dipende da come la utilizziamo. Io per il momento lascio risparmio batteria. Per quanto riguarda le opzioni di messa a fuoco io vi rimando al video che ho già fatto dove facevo vedere tutta questa parte nel dettaglio perché la cosa è assolutamente la stessa. Quindi le impostazioni di messa a fuoco sono quelle della mirrorless e sono meravigliose. Vi lascio in card un altro video in cui ne parlo già approfonditamente così non vado a ripetere sempre le stesse cose. Una cosa che mi preme dirvi è che comunque questa fotocamera ha le impostazioni di peaking e di guida di messa a fuoco. Quindi impostazioni che io adoro della mirrorless sono qui presenti. Quindi abbiamo la possibilità di impostare il focus peaking e di scegliere il colore. Una cosa che secondo me è assolutamente essenziale ormai quando si scatta con il fuoco a manuale. Le impostazioni di AF servo come potete vedere sono molto progredite su questa camera. È difficile impostare una camera come questa per l'autofocus perché ovviamente un corpo professionale ha un grado di personalizzazione molto elevato e quindi è difficile da impostare. Andiamo un po' avanti e vediamo che qui abbiamo una funzione che è importante. Otturatore allo spegnimento. Questo determina che cosa farà la nostra tendina allo spegnimento della camera. Poi abbiamo le opzioni di pulizia sensore che sono sempre importanti. Andando ancora avanti vedete che abbiamo le informazioni di copyright. Come dicevo già in un video precedente io vi consiglio di impostare il copyright in camera perché così ci saranno dei metadati che certificano che il materiale è stato scattato da voi. È una sicurezza in più. Prossimo menu abbiamo una parte dedicata al bracketing quindi una parte che io adoro. Andiamo a vedere solo velocemente quali sono le opzioni. Incremento livello di esposizione quindi sostanzialmente di quanto sarà il nostro bracketing. Sequenza di bracketing. Come potete vedere possiamo scegliere quanti scatti fare ed è molto più incisivo questo menu rispetto a quanto. Quanto non fosse in passato quindi qui possiamo fare un numero veramente alto di scatti. Ovviamente sta a noi prendere con le pinze questa cosa perché se facciamo 100.000 scatti poi dobbiamo post produrre 100.000 scatti. E ultima cosa che vi faccio vedere se andiamo sulla parte stellina del menu abbiamo la possibilità di personalizzare il nostro menu e di mettere qui dentro in una tendina personalizzata le impostazioni che cambiamo più spesso. Questa sembra una cavolata ma è molto comodo perché se noi dobbiamo continuamente cambiare delle opzioni che si trovano molto distanti nei menu una dall'altra possiamo raggrupparle in un menu personalizzato in modo da avere sempre tutto a portata di pollice. Bene amici come avete potuto vedere sono in realtà poche cose cioè la maggior parte delle impostazioni le sapevamo già le conoscevamo già da altre fotocamere. Si tratta semplicemente di andare a capire quali sono le nostre esigenze quindi nello specifico andare a vedere se scattiamo in raw o in jpeg perché fondamentalmente è sempre quella la discriminante. Io sconsiglio di scattare raw più jpeg salvo casi estremi perché se noi stiamo facendo uno shooting e dobbiamo avere a disposizione i jpeg subito e poi dobbiamo lavorare i raw in un secondo momento è l'unico caso in cui veramente possiamo usare quella funzione ma è abbastanza controproducente secondo me nel senso che riempiremo la nostra memory card molto prima ci troveremo i file doppi però a meno che non ci sia stato specificamente richiesto di avere a disposizione i jpeg subito dopo lo shooting direi che è abbastanza inutile ed è una cosa che vi dico in dieci anni e passa di carriera a me non è ancora successo quindi è una scelta vostra io ve lo sconsiglio. A questo punto vi aspetto nei commenti fatemi sapere se utilizzate delle impostazioni differenti oppure se vi ho salvato la vita fatemi sapere anche come vi trovate con questa videocamera se ce l'avete già oppure se state pensando di acquistarla fatemi sapere se vi ho convinto a rovinarvi acquistando uno di questi meravigliosi pezzi vi ricordo che c'è già online anche l'unboxing e anche un video in cui vi faccio vedere quelli che sono i bottoni alla disposizione sul corpo macchina vi lascio tutto quanto in card e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti!